fanculo avvelenatissimo inizio prima salve salve sono partito un'ora è un'ora fanculo sono avvelenatissimo inizio un minuto prima comunque ragazzi scusate sono partito un minuto dopo perché quel cazzo di instagram non mi prendeva il link volevo scrivere il link non prendeva il link non mi toccava comunque salve come se non fosse successo niente ragazzi non è stata buona la prima ma è incredibile non so perché stavo dormendo mi sono svegliato come se avessi pippato il cartongesso non so che cazzo è successo nella mia vita come state ragazzi avete passato un buon sabato ciao giga chad ciao garold ciao daniel ciao guerriera celtica ciao duxelli ciao emirex ciao pablo ciao star grande star per gli amici shark ciao devil il timidone ciao roberta io ho passato sabato a cercare un gioco che mi riempisse tre giorni e per per cercare questo gioco che mi riempisse quei tre giorni la data di god of war ho speso 50 euro 50 euro di un gioco che non giocherò di due giochi che non giocherò mai più me ne vergogno ragazzi me ne vergogno fortemente ma ho speso allora ho speso 19 euro di black desert che mi sono già rotto il cazzo perché gli mm ormai sono troppo vecchi ho fatto ti sono arrivato tipo a livello 40 l'ho mollato poi ho speso perché dopo 19 euro non spendere ulteriori 30 per comprarsi il descross online con le espansioni mi sono già rotto il cazzo pure del descross online sono uno spendaccione sono ho bisogno di bisogno di una mano di andare a disintossicarmi sto giocando da animal crossing pensate come sono messo sì sì ragazzi sono black desert rompera minchia dopo 10 minuti ma non è quello c'è un problema che ormai sono cambiato ragazzi non sono più per gli mm o sono la persona più sociopatica del mondo già che vedo qualcuno camminarmi di fianco faccio anche negli mm o quindi andranno sperperare i soldi dagli a me piuttosto invece visto c'è gente io ho mai giocato agli mm o fai bene perché sono una malattia come va va bene va bene ragazzi ti scongiuro maestro salutami ciao johnny senior ciao come va la vita piuttosto che guardare la juve sto qua ma veramente ancora ci sono ancora partite ma non doveva non doveva iniziare il mondiale incredibile negli emirati ancora presa le partite comunque ragazzi allora c'è stato c'è stata una votazione incredibile ma intrattenuto tutta sta domenica questa votazione tra baionetta e planezù alla fine ha vinto planezù ma perché se la se la lottavano cioè ogni tanto era su baionetta ogni tanto era su planezù l'ultima volta che ho visto io devo decidermi a scaricare il gioco per esempio detto ma si facciamo lo zoo tanto è molto equilibrato andrà bene più o meno a tutti no andrà bene più o meno a tutti quindi ci sta è un gioco molto molto chill molto molto fico poi dopo c'ho tipo una dipendenza per il gestionale mi piace mi piace gestire le cose c'è un piccolo aneddoto delle nostre vite che io dino quando tempo fa ma proprio poteva essere 2014 2013 quando ancora lui ha il suo vecchio studio ci mettiamo lì invece di fare quello che dovevamo fare ci mettiamo lì col portatile a gestire roller coaster tycoon quello del luna park molti di voi se lo ricorderanno ci mettiamo lì proprio come dei veri CEO di una grossa azienda a fare a giocare gestionale partivano anche risce lotte di potere riunioni riunioni strategiche come investire budget no è meglio comprare questa giostra i gestionali sono fighi ragazzi soprattutto in due quindi ci sta ragazzi ci sta maestro leggendario preferisco lei a dino grazie grazie sono 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 sicuramente il villain in questa situazione top investitori cosa ho mangiato non mi ricordo ah sì le pappardelle al sugo di cinghiale ho mangiato quelle ovviamente surgelate perché ormai la carne devi comprare la fake perché siete vicini al banco frigo della carne sembra che stai per comprare del pesce ma del pesce di qualità costa troppo ormai la carne grazie grazie gesù davidic grazie per i 18 mesi sono 18 yes 18 mesi con voi eh sì sono tanti 18 grazie ma bando alle matasce direi di iniziare allora vedrete il matrix perché sono un cretino non lo disattivo prima prima di fare prima di sminchiare tutto direi di innanzitutto di far partire il giuoco il conto giuoco qua ok streamlabs collabora please collabora streamlabs sta collaborando non collabora non collabora ma attivo difficoltà ok l'audio com'è ragazzi non ve l'ho chiesto perché ero ringalluccito da ad essere riuscito a mutare il microfono mutarlo diminuirlo ora ora streamlabs dovrebbe collaborare dimmi di sì non collabora no no esci 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 no non voglio non voglio riscattare le robe voglio uscire magari è diventato diventato un gioco per mobile aspettate un attimo ragazzi ok ora dovrebbe collaborare no gioca gioca non mi frega un cazzo del cloud audio hoc non vedo la chat un attimo thank you ok dai shu dai che ci perdiamo l'intro incredibile col babbuino se no a sto punto mi sa che catturo lo schermo perché con alcuni giochi per non far sminchiare la schermata con alcuni giochi conviene fare il cattura gioco però a quanto pare non funce ragazzi quindi facciamo facciamola brutto dio così guarda non lo prende non lo prende invece lo prende oh ci siamo allora io direi di iniziare da di iniziare da zero ragazzi ovviamente ovviamente giocheremo con i soldi perché si può anche fare il sandbox ma senza soldi non c'è divertimento perché dobbiamo fallire dobbiamo avere i debiti con la banca dobbiamo vendere gli animali per risanarci quindi direi di iniziare da zero c'è anche un buon nome secondo me per per lo zoo io farei sfida che è quello un po' più stimolante perché franchise è lungo cioè devi farti proprio il franchise il francese di animali di zoo la carriera no perché sono sceneri preimpostati la sfida è quello un po' più figo che poi tra l'altro io ho pure i dlc ho comprato anche un paio di dlc con gli animali con gli animali nuovi quindi io direi di fare sfida no questo qua ero fauna quello mio vecchio sono talmente pigro che non gli ho manco cambiato il nome di default vuol direi di fare il nuovo zoo lo facciamo nella zona temperata in Europa difficoltà media va bene tipo di terreno un livello tutto piatto si si dai la pianura padana pianura padana il nome lo chiamiamo chat chat di cop tv va bene no perfetto tanto a parte stanto sta partendo sta partendo il leone questa musica odio la fauna africana va bene è banale la odio la odio la odio onore a noi siete appena paragonati a degli animali non delle scime mi perdono allora questa musica mi sta scassando i coglioni ok perfetto mi ha capito ora onde evitare di sminchiare la situa ok sposto la tastiera di qua abbiamo il nostro il nostro tavolo qui Parma le colline di Pavma qua dove fanno il Pavmaveggio cioè siamo palesemente a Parma fiumiciatolo è grande è molto grande dove c'è l'entrata l'ho persa basta non possiamo più entrare finita dove l'entrata oh è qua ok siamo in pausa mettete in pausa io direi di sviluppare la prima parte dello zoo ragazzi perché è molto 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 realistico per essere diciamo gestionale quindi dobbiamo fare le cose per bene stipendi dello staff zona dello staff zona di ristoro per gli ospiti quindi io direi di iniziare bene a fare la zona la zona d'entrata con il sentiero direi anche di allungarlo un po' no lunghezza no larghezza lo facciamo di 7 metri quindi almeno facciamo proprio l'ingresso incredibile ma facciamo questo banale ma no facciamo le cose bene dai facciamo le cose bene questo qua no hippie facciamo facciamo il sentiero da spiaggia questo qua il sentiero di tronchi rotondi direi di fare un vialone il vialone centrale qui bello lungo e poi da qui ci sviluppiamo ora la zona dello staff non vedo dio che brutto che hai giocato con la tastiera chi è chi è shishini shini non riesco a leggerti bene bene il tuo nome ho quattro occhi ma dove funzionano bene comunque grazie grazie aspetta che shini shiny shini 122 grazie grazie per il prime facciamo una bella cosa facciamo una bella cosa là là perfetto non c'è audio di gioco no ma in realtà non c'è nessun audio non si sente l'audio del gioco cazzo aspetta come non c'è l'audio del gioco perché non lo prende scusa shush ah perché sono un cretino scusate ora sì ora dovrebbe esserci quando prima ho fatto il cattura schermo non stavo catturando l'audio eccolo adesso c'è ragazzi adesso lo sentite allora stavo dicendo grazie per il prime a shiny ora facciamo il sentiero per lo se non sbaglio qui è come sì esattamente come nei vecchi nei vecchi questo non c'era questo qua è una figata perché puoi mettere dei sentieri che possono calpestare solo lo staff quindi io direi di mettere la prima la prima zona dello staff perché avremo bisogno di molto staff quando lo zoo si riempirà di qua facciamo qui è una zona dove entrerà solo lo staff quindi i visitatori no la mettiamo qua ingulata qua mentre entrano ora per la zona ristora mi piace fare mi piace fare sempre una cosa infatti la faccio tipo da vent'anni sta cosa mi piace mettere tipo aspettate larghezza mi piace mettere tipo la camminata no perché è così corta scusa più larga vabbè no giù la camminata qua sullo sterrato thank you ciao mi chiamo Brian grazie grazie per grazie per la sciabbe ok allora qua facciamo che schifo è stortissimo però vabbè mi spiace per tutti quelli che hanno hanno un disturbo ossessivo convulsivo ma me lo tenete storto non interessa non c'è voglia di fare qua ci mettiamo una bella camminata una bella camminata per coppiette guarda una bella camminata per coppiette qui poi dopo più avanti ci metteremo dall'altro rato ci metteremo i negozi ok ora la prima cosa che fa che la prima cosa che c'è che che trovate quando entrate nei parchi divertimenti negli zoo cos'è se non se non un bel banco mat ragazzi quindi direi di mettere un banco mat così perché c'è il banco il banco mat però mi scusi mi scusi dov'è per far prelevare questi allora forse qui strutture visitatori ecco finanze allora questa è la cassetta per le donazioni da mettere davanti ai recinti perché non so se lo sapete ma gli zoo si sostentano con le donazioni con i soldi del biglietto ma anche con le donazioni ai agli animali quindi allora direi di mettere un bel banco ma dopo quell'ingresso guarda qui poi giusto no l'info point no ma fa cagare così forse è meglio questo l'info point il primo info point allora non mi ricordo come si gira con questo così con qui come cazzo si slideava non mi ricordo forse con aspetta no cosa ho fatto ho demolito la struttura scusi un attimo non mi ricordo come si girava ragazzi qua forse qua annulla annulla g ft telecamera perché ogni ogni gioco chi gioca gestionale lo sa ogni gioco gestionale ha un tasto diverso per girare le strutture qua qua non mi ricordo il cazzo di tasto allora e r r z l oh l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato e z ragazzi z di girare la famosa z di girare ok qua abbiamo l'info point l'info point che vabbè per ora è chiuso perché chiamamolo sì vabbè info point 1 va bene non è che devo cambiare il nome a tu vende le mappe e i su no i suvenir no vende le mappe forse anche gli ombrelli ai visitatori quando piove fatturiamo sugli ombrelli come come gli indiani che trovate nei posti di villeggiatura no ora direi di abbellire un po' perché fa cagare direi di mettere allora habitat non mi ricordo un caccio non mi ricordo qua abbelliamo allora mettiamo un paio di panchine incredibili così là ma anche qui beh guarda che bello qua mi fumerei una una sigarettina qua non stavo per dire cannetta assolutamente no perché è bloccato perché non me la fa mettere beh vabbè forse in quel sentiero in questo sentiero non posso mettere le panchine o perché è storto non lo so vabbè io direi di mettere un paio di panchinucce qui là poi qua ci faremo anche il primo il primo recinto tac ora illuminazione dov'è illuminazione dov'è illuminazione illuminazione vabbè l'illuminazione potremmo anche farla dopo in realtà questa è la telecamera vai mettiamo anche la telecamera qua per i malviventi qua e all'ingresso ora direi di iniziare con le cose con le cose serie strutture dello staff capanno del custode piccolo dai per ora per non spendere soldi lo mettiamo qua i custodi ovviamente servono a nutrire gli animali sono quelli che entrano nelle gabbe danno il cibo agli animali li lavano li prendono li rapiscono li portano in giro quindi il primo è qua stiamo modificando gruppo 4 vabbè i gruppi li vediamo dopo centro di ricerca ci serve per scoprire per ricercare perché gli zoo sono anche famosi per ricercare sugli animali per dire una cosa bannabilissima lasciamo stare lo scambio di animali in realtà serve tutto quindi potrai anche raccogliere tutto la clinica veterinaria serve l'officina serve e basta stanza dello staff ok la quarantena anche la quarantena è quando gli animali appunto devono essere quando vengono catturati in natura e vengono messi in quarantena un tot di tempo prima di essere messi nello zoo perché potrebbero essere malati poi la stanza dello staff lo so che fanno cagare queste strutture così ragazzi ma chi se ne frega cioè sono dipendenti non è che dobbiamo pensare al comfort dei dipendenti proprio avanti magari penseremo anche all'estetica è la stanza dello staff ora la cosa figa che non c'era negli altri in quello vecchio in quello molto vecchio tipo se non sbagliate il 2003 su parco del 2003 è che non potevi fare i gruppi qua invece puoi proprio gestire il parco con i gruppi con i allora adesso vi spiego panoramica zoo visitatori criminalità qua staff aree le aree di lavoro non gruppi allora chiamo la nuova area di lavoro e mettiamo questa qua per ora e la chiamiamo ingrescio si vorrei cambiare il nome fratm vogliamo cambiare acqua ingresso ovviamente all'ingresso ci saranno lo staff che lavora lì il venditore che lavora qui e poi aggiungeremo anche tutte le altre robe piano piano ok ora recinzioni non ancora costruzione strutture abbiamo bisogno della cosa più importante cioè elettricità allora regolatore di temperamento dell'acqua sì perché molti animali hanno bisogno di temperature di acque diverse lo mettiamo qui trasformatore lo mettiamo qui e il trattamento dell'acqua lo mettiamo qui sempre nella zona staff ora siamo pronti per creare la passeggiata la passeggiata iniziale no qualcuno fermi questa tortura che cosa che è successo sembrano dei cabinati sì sì sembrano dei dei camerini top ho paura di cosa di cosa ho paura di cosa è successo è tutto così confuso ma non è confuso ragazzi più organizzato di così cioè guardate 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 ora prima di fare il primo recinto ragazzi bisogna pensarla bene c'è una zona deve essere o no ora strutture direi di fare le prime trappole ok allora cibo allora questo qua è il bernie bakes quello dei panini che spaventa che cazzo era una donazione chi è che ha donato non lo so che cazzo non leggo qua su stream comunque grazie chiunque tu sia chiunque tu sia grazie non leggo ragazzi nel feed ci deve essere un problema vabbè comunque chiunque tu sia che hai donato ah guerriera grazie guerriera il primo animale avrà il tuo nome il primo animale avrà il nome del primo finanziatore cioè guerriera celtica no non voglio diventare quel tipo di streaming che hai delle donazioni no allora mettiamo il negozio di cibo dai primo negozio di cibo cazzo ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto non farlo mai più gioco farlo mai più comunque è un po' è un po' presto però ditemi ditemi che recinto fare per prima no sbizzarritevi che animale volete vedere che recinto volete per primo bisogna vedere se ce lo vendono però di non lo so suggerite allora questo è il chief beef cioè il manzo sceriffo e poi mettiamo anche delle bibite dai questo qua è il plane zoo negozio di bibite dai e le bibite anche qui ok girati girati please thank you ok dopo aggiungeremo tutto e le prime bibite anzi i primi negozi li ho messi ok drugo drugo97 rotuvalala grazie grazie thank you ora la cosa importante sono anche sono anche i cestini perché sono qui chi sei chi sei ma perché perché non scegliete nomi nomi incomprensibili ud ud thank you thank you per la shab grazie tutti voi state finanziando questo zoo e ne sono molto orgoglioso molti animali avranno i vostri nomi ora abbiamo fatto l'info point i primi negozi ora dovrei cercare un attimo i cestini i cestini ragazzi eccolo qua riempiamo di cestini perché sono degli indisciplinati anzi siete degli indisciplinati riempiamo riempiamo di cestini dunque sono un cretino sapete perché non potevo mettere non potevo mettere il le panchine perché ho capito adesso cosa è sta cosa questa qua è la roba della fila non è uno sterrato non è uno ma questo non è uno sterrato normale posso cancellarlo yes mi cancella non mi ricordo come si cancella addio non mi ricordo ragazzi come si cancella sta facendo un disastro vabbè vediamo dopo ora progetti costruzione recinzioni zoo sentieri come minchia elimina sentiero è scritto in minuscolo però ok perché ho fatto la coda queste qua sono le code in realtà io dovrei fare questo qua per farlo percorribile con le panchine vada allora devo mandare due volte allora devo mandare due volte l'input ma forse il gioco capirà adesso che ho bisogno di questo oh ora si che è un aspetto di una camminata sotto gli alberi asimmetrici tra l'altro ora si dopo metteremo le panchine anche qua metteremo magari dei tavoli per il picnic ora il primo animale un ippopotamo col mio nome il signor Udi che ci ha abbonato allora gli ippopotami allora dobbiamo vedere se ci sono innanzitutto vediamo che animali ci sono zoppede a scambio di animali mercato nessuno perfetto bisogna comprare basta sono chiuso filtro di specie attivo no basta il zoo è chiuso aspettate forse dobbiamo fare il recinto prima e dobbiamo aprire lo zoo ovviamente prima bisogna aprire lo zoo quindi ora leviamo un attimo la pausa intanto il negozio qui si è aperto andiamo su zoo panoramica zoo ciao di cop tv orario di apertura dalle 6 facciamo dalle 7 di mattina dalle 7 di mattina fino alle 23 va bene pausa un attimo gradimento vabbè gradimento 0 visitatori allora adulti 3 euro 3 dollari bambini 3 no facciamo gli adulti 5 che cazzo anzi 6 gli adulti 6 i bambini 5 vabbè le tasse per ora non ne abbiamo i prestiti non ne abbiamo le ispezioni non ci sono lo zoo è aperto bene per ora teniamolo così ma se perché se vado su mercato su scambio di animali non mi dà niente perché forse devo fare il primo recinto vabbè facciamo il primo recinto però prima del primo recinto ragazzi bisogna fare allora staff area di lavoro andiamo un attimo su ingresso e aggiungiamo anche questi via così lo staff che lavora nell'ingresso si aggancia automaticamente a questi a posto e ora dobbiamo assumerlo lo staff allora veterinari 0 ovviamente io direi innanzitutto due inservienti due inservienti e li mettiamo qui poi che chiudiamo gli inservienti poi due custodi due forse un po' troppo vabbè prendiamone due chi se ne frega bisogna spendere soldi per fare soldi due custodi e va bene però costano un botto i custodi costano veramente un botto poi un meccanico però va bene che si occuperà dei guasti una sicurezza va bene e un veterinario l'educatore dopo vediamo dopo ragazzi che se non impazziamo allora veterinario custode meccanico la sicurezza e inserviente e li mettiamo tutti nell'area ingresso cosa almeno lavorano lì poi appena faremo il primo recinto lo accorperemo a questo questo qua è già scontento il primo giorno di lavoro come ti chiami? ti tengo ti tengo d'occhio ti tengo d'occhio anche questo qua scontento il primo vabbè ok lo staff è fatto ora direi qui così almeno c'è pure la camminata sul verde qui faremo il primo recinto e non so perché non mi fa comprare gli animali sinceramente ma se levo la pausa ok questi qua vanno perfetto se levo la pausa vado su scambio di animali perché non ce ne sono scusa qualsiasi specie rimposto tutti i filtri oh e niente ho i filtri sono un cretino ho i filtri allora per ora il mercato offre il mercato offre l'antilo capra americana quella di Redemption l'antilo l'antilo penera il bihorn bellissimo il bihorn il bongo il bono no minchia il bonovo uno dei miei animali preferiti il bonovo ovviamente non fate battute non fate battute mi raccomando sto parlando dei calabresi ovviamente visto che sto con un meme la calabria bufalo d'acqua che è squirtle pokemon un bufalo d'acqua che cazzo poi abbiamo il caimano dagli occhi dagli occhiali ah quello dell'orinoco no questo qua il caimano americano forse ovviamente femmina adulto caimano dagli occhiali il caimano nano di cuiver ci sono un botto di animali il cammello top tocca bello cervo rosso il coccodrillo il dingo bellissimo il dingo mi piace il drago di komodo minchia ci trattiamo benissimo qua ovviamente guardate quanto cazzo costano l'elefante africane elefante indiene sapete qual è la differenza tra l'elefante africano e quello indiano le orecchie infatti il gioco ve lo fa notare guardate l'elefante africano le orecchie più grosse fa cocero top top il bonobo il bonobo trovano come ricci il coccodrillo io voglio essere un dingo ma adesso tempo al tempo foca grigia fa cocero allora per ora cazzo il bonobo attizza ragazzi eh il bonobo attizza io direi di fare il bonobo ragazzi perchè abbiamo pure abbiamo un maschio e una femmina però no costa un botto il bonobo allora gli animali rari c'è bisogno di di ricerca questi qua sono i punti ricerca c'è bisogno di animali di di passaggio diciamo più animali avete più la ricerca sale il bonobo femmina si sblocca questo bonobo femmina che tra l'altro è a tre stelle cioè è un animale comunque di guarda ha un'attrattiva di 6.000 quindi vale un botto sto animale soprattutto se gli fai fare i cuccioli costa un botto 900 quasi mille punti ricerca mille punti ricerca li fai in un anno di gioco un anno di gioco un anno nel gioco sono all'incirca mille punti di ricerca quindi direi di iniziare con qualcosa di semplice ragazzi la bigorna anche attira il facocero il facocero il facocero è vero si c'è facocero bigorna bigorna che è cheap dai iniziamo col bigorna che è pure figo c'è il maschio yes direi di fare un maschio no non ci sono le femmine puttana troia minchia solo maschi in un recinto finisce a fischi vabbè ragazzi che poi in realtà gli erbivori si possono mettere insieme tipo sono sicuro che il bigorna l'antilo capra si possono mettere insieme tipo il facocero zebra ed elefante li puoi mettere insieme nello stesso recinto fai un recinto enorme della savanna e li metti insieme quindi allora dai compriamo il bigorna allora compriamo allora lui whaling poi ovviamente li cambieremo nome tyler li metto li metto questo qua due stelle dai allora adotta ok inviarlo zoo qua nella zona di scambio ora l'altro dov'è qua per ora ne compriamo tre dai ne compriamo tre tre sono un po' troppo ora però non è finita qua ragazzi perché questo gioco lo so che magari molti di voi che con i gestionari non hanno nulla a che spartire dicono no che palle che palle che palle allora stanno arrivando no vabbè staranno arrivando ok però noi adesso dobbiamo andare sulla zoopedia e scrivere qua big horn allora big horn cercalo dov'è era uscito un cretino allora oh che dio perché sono un cretino oh qua e bisogna vedere come gestirlo va che bellino un capo proprio il diavolo allora abitato naturale taiga e tundra quindi allora dati specie ovviamente sarà mansueta più 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 lo ricerchiamo più sappiamo cosa gli piace ovviamente mangia il fieno è una capra ora l'importante è fare questo ragazzi massimo 400 minimo 425 metri quadri di spazio meno 12 meno 15 perché sono abituati al freddo quindi noi dobbiamo fare taiga e tundra di bioma e lo facciamo così guarda natura andiamo qui sui filtri mettiamo bioma taiga e tundra e abbiamo le piante poi il terreno ovviamente ci doveva mettere dove essere il terreno non c'è recinzioni abita strutture costruzioni terreno eccolo qua il terreno ci mettiamo tipo l'erba ci metteremo un po' di erba lunga un po' di neve perché è abituato alla alla roba artica ok mi sono un attimo impappinando qui perché devo capire che cazzo fare recinti cancelli ok facciamo un recinto easy tanto alla fine è un a tenuta stagna non scalabile trasparente ok dai trasparente più o meno lo vedono lo facciamo partire qui allora 420 metri quadri quindi direi tac 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 poi sono tre neanche tanti tac 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 forse sto esagerando ma fanculo col vetro secondo me è meglio perché le specie mansueti ha senso avere il vetro perché è vero che non sono mansueti caproidi quando vogliono incornare qualcosa incornano però vabbè è un vetro a tenuta stagna quindi non dovrebbe dare problemi e facciamo così che schifo no antestetico da far schifo facciamo così e qua ci mettiamo il cancello o almeno là no il cancello il cancello il cancello lo mettiamo qua qua il cancello ovviamente per far entrare lo staffe ora terreno 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 erba lunga vai 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 con l'erba lunga un po' di neve qualche spruzzetto di neve vai ora ha bisogno anche dell'acqua ovviamente quindi dobbiamo andare giù la mettiamo qui l'acqua guarda vai vai affossa 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 un po' di acquetta la capretta acqua calma un po' troppo alta non vorrei affogasse la capra però vabbè il caproide ora natura natura ovviamente essendo essendo della tundra ci metteremo degli abbe un po' più grande questo qua molto natalizio tra l'altro no con le palle mi fa cagare mi fa cagare lo voglio naturale oh questo qua vai ne mettiamo un po' qui un po' qui poi c'è la gente che ci passa tipo pomeriggi per un solo recinto ma io per sta cosa qui faccio abbastanza a caso perché in natura comunque gli alberi non è che sono simmetrici deve avere una parvenza di 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 selvaggio no poi ci mettiamo qualche cespuglietto qui così questa cosa qui che non è per niente naturale però fa niente bel bel bello sto abete vai lo mettiamo poi in centro qua così due là poi qualche rocciina la mettiamo qualche rocciina ma sì così può fare il re della roccia no qua no perché salta fuori poi qua una in acqua più grande in acqua così vale ora vorrei mettere un altro po' di neve perché non mi piace così non mi piace con così poca neve allora terreno colora neve 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 vai con la neve sapete perché non si vede la neve quando esco dai terreni perché è ancora caldo per far ghiacciare qui dobbiamo dobbiamo abbassare la temperatura del recinto gli alberi si gli alberi ma tutto il resto però cosa cosa ragazzi cosa no vabbè gli alberi gli alberi vanno va bene così no tutto il resto tutto il resto lo vediamo dopo no cioè non capisco non capisco se cinque alberi in fila perfettamente distanziati veramente ah sono ah sono sono simmetrico anche senza volerlo vabbè ragazzi no perché ci sta comunque chi se ne frega la natura simmetrica è vero è vero vabbè dai allora iniziamo allora innanzitutto dobbiamo mettere l'habitat allora io direi che delle capre le facciamo dormire in un giaciglio fatta apposta per loro no li mettiamo poi dopo ovviamente più andiamo avanti più si scoprerà giaciglio piccolo chi è angex thank you thank you per la sub grazie grazie allora 4x4 sono vabbè mettiamo questo dai la paglia va bene qui qui ok là qua dormono gli esseri poi il cibo mangiano il fieno quindi allora in realtà dovremmo andare a vedere su zoopedia bene che cazzo che cazzo dargli bisogni sociali aspettativa di vita fieno vabbè il cibo è il fieno poi ovviamente dovremmo ricercare informazioni generali minor preoccupazione vabbè non è non è in estinzione il povero bighorn abitata naturale ce lo dice qui meno 20 meno 12 meno 16 di cosa allora noi ne abbiamo 3 quindi vabbè ci sta in realtà ci sta ok la ricerca la ricerca la ricerca scusate un attimo la ricerca è qua veterinari vabbè poi piano piano quando inizieranno ad arrivare li ricerchiamo ora il nome del recinto lo chiamiamo big corna bianco ok pulizia 100 quanto è grande vediamo minchia 2000 2000 metri quadri potremmo anche metterne altre 70 di pecore l'ambiente è meno 26 però vabbè ci sta adesso la abbasseremo abitato vuoto finanza vabbè ok ora l'habitat refrigerazione stufa unità di raffreddamento la mettiamo una qui agli angoli deve diventare fredda sta cazzo di gabbia poi ci mettiamo i lupi per il meme dentro sto recinto insieme alle capre minchia ti danno delle multe se fai se metti se metti i lupi i carnivori con allora si sta abbassando ragazzi sta abbassando la temperatura piano piano inizierà a ghiacciare ok ora cibo 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 ah è vero che devo mettergli anche i giochi è vero ma non su un cazzo io allora alimentazione arborea in realtà devo mettergli quella roba tipo per i cavalli no per le zebbre perché alla fine sono uguali no habitat risorse alimentari che cazzo ma come cazzo faccio a dargli il fieno ragazzi allora cibo e acqua allora innanzitutto gli mettiamo un appoveratoio grande dai qua lo mettiamo scusate uno qui e anche una fontanella qui forse questo devo mettergli gabbia cibo no in realtà no mangiatoia grande io mi metto una mangiatoia media qui per dare il fieno e dovrebbe essere a posto secondo me che cazzo gioca un caproide che cazzo di giocato gli le mettiamo una capra poi tra l'altro tutto ok poi tra l'altro devo ancora devo anche sbloccarli il giocato è un giungazzo quindi non lo so ramo scalabile non penso piattaforma scalabile sì tipo degli stambecchi non lo so roba su cui salire esatto quindi direi di mettergli delle rampe scalabili facciamoli eh sì ti arrampichi come una capra allora mettiamoli allontanato dal recinto perché se no fugge quindi tac aspetta devo essere preciso al millimetro qui porco giuda un attimo no allora facciamo così e poi c'è mettergli la ferma scusa piattaforma naturale così vabbè se li metto se li metto qui ma non c'è già fatta scalabile allora senti io per non saperne leggere e scrivere questo lasciamolo farà tipo un saltino per non saperne leggere e scrivere aspetto le ricerche ragazzi perché così alla cieca è un po' uno spreco di soldi quindi facciamo partire facciamo perdire qui ora visto che è partito tutto io direi di andare un attimo su zoo zo 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 panoramica zoo no staff area di lavoro ingresso e modificarlo un attimo quindi là aggiungiamo anche questa gabbia così tutti quelli che lavorano in questa area di lavoro si agganciano alla gabbia intanto è ghiacciata è ghiacciata ora dov'è il centro di scambio centro di scambio qui apri deposito di animali apri deposito di animali ok li abbiamo tutti e tre che sono qui ora io direi di inviarli prima alla quarantena per vedere se sono malati tutti vai staranno tipo due minuti alla quarantena top covid per vedere se hanno dei parassiti se stanno se sono in salute ma in teoria lo sono sempre però non si sa mai quello ovviamente quello malato lo teniamo in quarantena finché non guarisce dalla quarantena si sposta alla clinica veterinaria ma comunque dovrebbe stare bene però sono tre maschi cazzo io volevo anche una femmina perché se no qua i cuccioli non crescono cazzo poi ci occuperemo anche della della situa qui dei dei visitatori che tra l'altro potrei anche occuparmene adesso quindi la ricerca la ricerca la ricerca allora zoopedia ricerca bonus ricerca avanzata no 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 devo andare su epatiche no vabbè qua si ricerca le malattie ma scusa se io volessi ricercare se volessi ricercare altre cose tipo gli animali no forse la ricerca delle malattie ovviamente più le ricercate meglio allora stagazzi in quarantena ci diamo una moscia ok sono pronti quindi tutto li spostiamo via qua abitatuno la ma perché non mi ha cambiato il nome big corna e le prime bestie le abbiamo fatte ora un'altra cosa che bisogna fare è mettere la cassetta per le donazioni qua quando passeranno i visitatori doneranno le mettiamo qui ovviamente ci mettiamo donazioni la cassetta per le donazioni ok a posto chi è? goblin grazie thank you thank you per guardate come li portano dentro pacchi di amazon li portano dentro gli animali guarda guarda vediamo grande grande alle è il primo è fatto benessere vabbè il benessere salga le dotazioni sono basse perché è poverino non lo conosciamo però vabbè l'importante è l'habitat la socialità il nutrimento l'importante è quello le dotazioni è abbastanza secondario questo qua ha tre stelle non male ci sta vedremo chi diventerà l'alfa tra questi questo qua due e questo qua tre l'alfa non so non so manco se hanno degli alfa i caproidi qua vedremo ci sarebbe bisogno di una femmina però se hai bisogno di una femmina ci sta ci sta allora vabbè lasciamoli qui lo voglio fissare intensamente negli occhi un attimo dov'è salve che bellino top bevi l'acqua fanno proprio così allo zoo si si li portano con i sacchetti i biglietti sono troppo cari non mi rompe del cazzo allora faccio un attimo pausa che devo fare le cose per bene ora strutture ci dobbiamo mettere chi è vinci jeans thank you thank you per la shab grazie lo zoo è stato sopravvivente grazie a te ora io metto sempre queste cose qui allora l'altoparlante ambientale e lo mettiamo qua ok la nessuna atmosfera foresta asiatica rane della giungla mettiamo ovviamente giungla di notte pioggia nella giungla le settine nella giungla sott'acqua mettiamo uccelli nella giungla dai fanculo poi un'altra cosa che bisogna mettere è l'altoparlante didattico perché i visitatori mentre passano davanti a la gabbia fanno tipo una lezione sul b-horn loro passano qui sentono una lezione sul b-horn l'altra cosa da fare in questo caso sono tutti skill per ottenere alte quotazioni l'alta quotazione dello zoo più lo zoo ha un'alta quotazione più soldi possiamo chiedere io sono arrivato a chiedere tipo 100 dollari per l'entrata nell'altro zoo che ho qua ci mettiamo il coso informativo del b-horn ed è fatta e top per ora va bene così ora facciamo una cosa dobbiamo mettere un po' di decorazioncine qui intorno perché c'è veramente una tristezza là qualche panchinuccia qui poi qua di fronte ci faremo magari un'altra gabbia poi il cestino di fianco alle poltrone che schifo che schifo le panchine asimmetriche vabbè cestini cestini come se piovesse ah ovviamente non dare il cibo agli animali cosa che c'è scritto in tutti gli zoo ma tutti fanno perché sapete che ci va lo zoo per dare il cibo agli animali ok ovviamente non datelo perché se no fate casino qua il cartello di silenzio quiet non urlate donne non urlate perché sono sempre le donne a urlare quando vedono gli animali vado negli animali e urlano o no dov'è le sono guarda vanno degli animali e fanno bubbi bubbi ah che che sguardo incredibile ok allora innanzitutto nel mentre nel mentre facciamo cose io direi di spendere di spendere altri soldi perché allora ce n'è c'è una femmina ho bisogno di una femmina avrei bisogno di una femmina coccodrillo insieme ai bihorn ne compro un altro ne compro un altro lo mando subito in quarantena vai ora lo faccio anche nella realtà che bellini tutti tutti ne hanno bisogno su quella vita c'erano uno sguardo incredibile comunque sono arrivati i primi visitatori ragazzi non erano a corto di denaro minchia sto già devo fare già i debiti questo mi stai dicendo allora una cosa che una cosa che mi ha insegnato che mi ha insegnato Elon Musk che bisogna andare in deficit per salire quindi direi di fare una cosa ragazzi posso fare una campagna marketing posso fare una campagna allora vabbè gli audiovisivi stanno andando memoriali ah memoriali quando muore quando ti muore tipo la superstar dello zoo è quel bonopo lì quel bonopo che si chiama George muore George ti puoi fare un memoriale come hanno fatto all'orsetto Knut se non sbaglio ancora vivo Knut non lo so ok allora iniziamo la ricerca sul bihorn vai vai Dustin Cameron studia il bihorn bravo poi finanze marketing ok di marketing possiamo fare in basso impatto direi che di tenerci bassi pubblicità sui seriali serie tv sitcom fascia protetta campagna online video virali banner pubblicitari grazie per la sub thank you devo dire di fare video virali così potreste potreste vedere su di tocca degli influencer che fanno questa cosa qui ragazzi venite allo zoo lo zoo chat di cop tv venite lo zoo chat di cop tv venite ci sono animali bellissimi con una capra bianca venite così sono le gli ad o no sono così ragazzi io chiedo eh chiedo eh vedo vabbè poi anche noi abbiamo fatto gli ad però non è non è una critica agli ad una critica agli ad che non c'entrano un cazzo dove si sta palesemente vedendo una persona che sta leggendo una roba che non è sua o no o mi sbaglio vabbè l'ho fatta ragazzi due milioni così sull'unghia quindi facciamo perché il marketing è fondamentale secondo me e abbassiamo 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 il biglietto abbassiamo abbassiamo il biglietto perché sennò qua andiamo in difficoltà e panoramica allora il biglietto lo facciamo da 4,50 per gli adulti dai no qua virgola 50 perché non mette la virgola sto pezzo di merda allora facciamo 4 dai perché non la mette non la mette non la mette non la mette pezzo di pezzo di di piscio qua non ci sono già faccio 3 fanculo va bene vi accontento 3 3 ma che con 3 con 3 dollari con 3 dollari non pago manco il il parcheggio di uno zoo puttana la madosca vabbè comunque è arrivato l'altro yes è buono questo è buono sei buono adesso gli diamo adesso gli cambiamo i nomi ragazzi adesso gli cambiamo i nomi adesso facciamo i nomi allora anche se sono dei maschi li confondiamo li confondiamo perché sono non binary quindi gli diamo anche dei nomi da da donna se siete donne state tranquilli siamo siamo aperti a tutto qui allora chi vuole chi vuole essere un bighorn da due stelle argento chi vuole essere dica io in chat no ragazzi quando ci sono tipo delle slide che non funzionano delle roba alfanumeriche che non funzionano io mi incazzo cioè mi incazzo veramente io chi è il primo che l'ha detto io no il primo che l'ha detto è madonna con la barba e ci sta ci sta in realtà quindi non era questo vabbè dov'è vabbè chiamiamo lui quindi io direi di fare di fare un misto madonna madonna con le corna ci starebbe però dai madonna con la barba ok è fatto prima è fatto madonna con la barba bighorn adulto 8 anni a posto guarda come se la sguazza tra l'altro respira con calma ok poi l'altro l'altro dov'è l'altro cazzo sono tu questo qua questo qua questo qua io 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 il primo coletto è dove cazzo perché no aspetta va un attimo va troppo veloce va troppo veloce chi è becchi becchi 94 la chiamiamo semplicemente becchi perché dare i numeri agli animali mi sembra un po' mi sembra un po' di cattivo gusto e becchi è qua ovviamente il fatto che l'animale abbia le corna non è non è che non sto dicendo non è che siete voi cioè non sentitevi cioè basta non ne esco più come ne esco da sta allora questo qua invece Tyler signor Tyler aspetta che la chat è ferma mo ok io 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 chi è rom rombo rambo 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 il signor Tyler si chiamerà rambo si è andato via è andato via il gioco mentre stream ok rambo no ok questo qua invece lo chiamiamo l'ultimo se non sbaglio voglio essere un caprone dello zoo chiamiamo ciao mi chiamo brian vabbè lo chiamo brian perché ciao mi chiamo brian mi sa che non ci sta brian ok il primo che vedo ovviamente non il primo che lo dice così almeno non devo stare a scrollare stream se me la spango così ok gli ho vendati tutti i nomi allora c'è rambo brian questo qua è becchi a posto e dov'è dove lo sguazzatore madonna con la barba all'è madonna con la barba mvp chi è l'alfa c'è già l'alfa no non c'è un'alfa ma non penso che i caproidi abbiano un'alfa no sai che forse penso che nelle capre l'alfa sia la femmina non vorrei sbagliarmi vabbè lo vedremo quando ci sarà la femmina ragazzi ok ora io direi di aggiungere innanzitutto l'illuminazione che qua è veramente una merda allora lampione lamp one no non c'è non c'è nell'habitat devo andare qui su strutture che cazzo faccio lamp niente cazzo sono le luci lamp lamp non c'è abita terricinzione costruzione sarà in costruzione si è qua a posto ok lampione perché veramente mi urta i nervi vedere il coso al buio e dobbiamo assolutamente ricercare altre cose perché c'è uno zoo sfigatissimo quindi direi di pensare al prossimo animale ragazzi adesso vi faccio vedere che animali che ci sono mentre che voi scegliete magari se c'è qualche moderatore in chat che può far partire un sondaggio adesso che vi faccio vedere gli animali se no fa niente andrò ad occhio ora qua e qua a posto e ci siamo ora vi faccio vedere gli animali scambio di animali che poi in realtà ci sono anche questi animali qui allora rimposta tutti i filtri mercato di animali da mostra ecco gli animali da mostra che dovevamo fare delle specie di avete presente quelle gabbie che si sono viste a Luca Comics dove c'era dentro Sabaku Power ecco dovevamo fare le stesse cose invece che dentro degli streamer ci sono questi animali qua che sono l'anaconda gialla la blatta rinoceronte tipo tropicalia che è che c'è venuto qua a Milano la tropicalia il boccostrictor costano un botto e non è che rendono tantissimo in confronto dei recinti però la chiocciola il crotalo il ligua che figa l'iguana l'iguana calbina la l'iguana shiny però io sinceramente andrei su gli animali gli animali normali quindi abbiamo vabbè l'antilo capra il ritorno del bigone il bufalo nero il caimano ci sarebbe un bel caimano il coccodrillo qua vari tipi di caimano il cammello il top cammello il capipara fermi porco ciuta c'è lui è lui è lui è lui è lui è lui mi chiede rarissimo il capibara dopo il gioco non l'ho trovato qui capibara è il mio animale preferito ragazzi per chi non sapesse cos'è il capibara ve lo faccio vedere perché un animale è talmente talmente osceno che non puoi cioè è un cazzo di topo enorme il cammello il capibara il mufflone arambe il gorilla un bel capibara ragazzi però ce n'è solo uno si si top capibara andrà a stare su tinder si mi chiamo capibara94 quindi pensateci ragazzi ovviamente vi faccio vedere anche vi faccio vedere anche gli altri animali capibara ovviamente vince a mani basse però ce n'è solo uno cazzo io vorrei voglio un esercito di roditori da cavalcare anche il cervo non sarebbe male bellissimo il cervo il dingo dingo però il dingo ci va ah no però ce n'è anche uno con i soldi e potremmo anche comprarlo guarda facciamo il dingo ragazzi anche il dingo non sarebbe male se no c'è anche il drago di comodo bellissimo l'elefant africaine poi c'è il fenicottero rosa la foca grigia le foca ce ne sono un fottio non sarebbe male ci sono anche ci sono due femmine e due maschi tra l'altro vabbè ragazzi scegliete 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 poi dopo saprò saprò io quale scegliere quindi intanto io cerco di capire vai che cazzo fare allora zoopedia ricerca io devo andare qua ricerca meccanica negozi di bibite negozi di cibi ecco devo ricercare negozio di souvenir lo facciamo lo facciamo ricercare ovviamente al nostro meccanico perché già sta momento attenzione i negozi di souvenir sono importantissimi vendono palloncini pelucci merchandising ragazzi il merchandising fa fatturare per ora posto così io direi di mettere di mettere altri altre cose per fregare soldi alla gente sono qui per questo delle cose delle macchinette la macchinetta delle bibite qua e la macchinetta del cibo qua poi toilette importanti non ho soldi perfetto primo prestito primo prestito allora 5% di interesse 20 milioni al 5% di interessi che equivale a prendere le vostre palle fare tirarle fare un nodo e stringere 20 milioni al 5% di interesse 5 milioni al 10% e già oddio sono un po' un salazzo ragazzi cosa faccio questo qua però da 50 a da 5 in realtà non sono milioni ragazzi sono non sono milioni sono migliaia questo qua che ha una durata di 4 40 anni 50 mila 10% in realtà è il più fattibile c'è qualche commercialista in chat che mi può aiutare qual è il prestito migliore per me qual è il prestito su misura per me adesso parte un ad di subito punto it ragazzi non so ragazzi per me il più fattibile è prendere quello che ci da di più quello da 20 mila ma quello da 20 mila ragazzi c'è una durata di 10 anni di 3-10 anni vuol dire che dal terzo anno iniziamo a pagare cioè rivedete conto e c'è il 5% almeno questo 10% però quarto anno è più fattibile prendi io prenderei 50k dai ragazzi 50k vai 50k via a posto siamo indebitati col diavolo avevamo 50k da far fruttare ragazzi quindi direi che il marketing sta andando allora vi spiego come funziona il marketing questo qua il marketing ad alto impatto che in realtà è quello che dovete vedere perché questo qua è quello che fa inizialmente quello ad alto impatto è quello che interessa allora serie tv e sitcom attira gli adolescenti fascia protetta attira i bambini talk show in seconda serata attira i genitori quindi le fasce le fasce di prezzo sono quelle gli adulti comunque non per forza i genitori anche la fascia protetta no in realtà la fascia protetta attira i genitori perché sono i bambini che dicono mamma mamma le famiglie diciamo serie tv sitcom come gli adolescenti quindi sono più indisciplinati gli adulti invece sono quelli che hanno più soldi quindi bisogna anche considerare questo che è stralda rodo tuvalalla tuvalalla allora vabbè io per ora direi di lasciare così vedete anche qua questo qua adulti questo qua i bambini questo qua gli adolescenti comunisti stavo perdendo magari le affissioni vabbè lasciamo perdere le mie stronzate ora facciamo dai facciamo il secondo habitat ragazzi che cazzo avete scelto che cazzo avete scelto attiriamo i bambini insieme gli bambini ragazzi scusate vabbè vedrete steam 20 20 20 habitat habitat avete scelto un cazzo vabbè facciamo i dingo decido io per voi decido io per voi dingo ragazzi dingo dingo dove cazzo vi capita di andare a vedere un dingo ditemi avete mai visto un dingo dal vivo dove cazzo sto andando dingo 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 dove poi sono allora abbiamo una femmina che adottiamo subito le femmine sono oro dingo leo top dingo leo vai che adottiamo adesso dingo ryan o she per i figli degli anni 2000 o she grande ryan e l'altro dingo dove cazzo è ce ne erano 4 prima non c'è più vabbè 3 vabbè ryan e leo si litigheranno la povera mia mi spiace per lei vabbè ovviamente l'alfa farà quello che deve ragazzi avremo i dingo cuccioli quindi facciamo una bella gabbia una bella gabbia gigante andiamo qua quindi ora andiamo su zoopedia dingo ma il dingo di che cazzo di regio di che cazzo di bioma lo ignoro canis lupus dingo dingo popolazione di natura sconosciuta vulnerabile attenzione il dingo è a rischio estinzione bisogna rispettarlo il dingo ragazzi ah è australiano il dingo non lo sapevo è vero che in australia ci sono animali tutti loro sapete che non la sapevo sta comichia quanto cazzo di terreno ne ha bisogno solo uno e la madonna noi ben tre che cazzo dobbiamo fare un appartamento di city life qua a milano allora vabbè hanno bisogno una mente di caldo dagli 8 e 43 cioè non c'è una via di mezzo 8 e 43 è tutto giovane vabbè i giovani in realtà di meno allora abbiamo deserto e praterie ok a posto quindi facciamo ho visto che il dingo in realtà non penso possa sfondare un muro di mattoni però che poi in realtà c'è una recinzione che è la migliore che è il vetro per interrogatore avete presente il vetro dei serial quando interrogano i serial killer che tipo l'fbi dall'altra parte della stanza vede ma quello che viene interrogato no il vetro specchiato tu praticamente metti il vetro l'animale vede se stesso specchiato e non vede i visitatori quindi è meno si incazza meno perché comunque i visitatori quando ci sarà pieno di gente qua quando sarà pieno di gente qua rompre il cazzo a farle foto gli animali flippano quindi bisogna anche considerare sta cosa ragazzi conta molto anche sugli imprevisti quindi allora io metterei il vetro perché mi piace mi piace come come materiale poi probabilmente quando scopriamo altri recinti li aggiorneremo ora vai là qua curviamo lo faccio un po' più lungo un po' più lungo qui ok guarda il cancello lo faccio passare dietro almeno non cagano il cazzo ok bello grosso che hanno bisogno di tanto spazio voglio tanti cuccioli dingo poi minchia i cuccioli non sapete quanto quanto sbigli fanno sbigliettare i cuccioli i cuccioli i cuccioli sono proprio da da gente ricca ok vai penso di essere giusto no penso di essere arrivato più o meno a 1500 metri quadri dai ci siamo what time is it sto prendendo la connessione del tempo no c'è tempo c'è tempo fatemi la nunchessone in chat ovviamente perché io con questi giochi ci perderei la vita veramente i gestionali a me hanno un senso di rilassamento ragazzi non so se anche a voi interessa vederli giocarli è comunque un genere di nicchia che ha molto da offrire secondo me il gestionale molto molto da offrire almeno per me allora il cancello lo facciamo passare di qua guardate quasi almeno non rompiamo il cazzo lì alla gente che c'è traffico bisogna anche pensare a ste cose allora il cancello lo mettiamo qui sentiero staff lo facciamo qui che schifo che è sembra sembra una v vabbè seconda nascita ok le tube le famose tube di falloppio ora habitat filtri allora il bioma era deserto non mi ricordo quale cazzo era il bioma i miei filtri pacchetti tema specie sentieri allora il bioma era desertico e non me lo ricordo ragazzi adesso lo vado a rivedere deserto e prateria il cane della prateria topo fabio de luigi yes quindi andiamo su natura e mettiamo bioma deserto e prateria ale quindi io direi di mettere un po' d'erba bruceit come la scia come giusto che sia quindi dove l'erba bruceit terra leggera allora mettiamo un po' di terra leggera dai allora io metto la terra pesante un po' di sabbia grossolana che è un po' desertico vai vai questa sabbia vai 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 vale e poi mettiamo anche un po' di no l'autocolorazione che cazzo mettiamo un po' di terra la qui si dico cos'è un applauso la terra senti le macchinette le macchinette sui tronchi di legno dopo mettiamo tutto ragazzi quello da 20.000 l'ho già preso aspetta un attimo ok minchia devo risolvere questa cosa della chat comunque io amo i gestionali giusto 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 dovete amarli ora abbiamo l'altro habitat io direi di unirlo qui quindi qua lo chiamo dingo star poi andiamo su zoo aria dove cazzo è aria lavoro aria lavoro aria lavoro qua ok ingresso direi di modificarlo e aggiungere anche questo e aspetta 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 modifica mettiamo anche queste nulla nulla deve rimanere fuori poi ti direi di assumere anche qualcun altro perché se no allora assumiamo un altro un altro custode che andrà ovviamente dai dingo poi un altro inserviente vabbè l'inserviente in realtà no un altro meccanico che ci serve per la ricerca vai stipendi a palla vedi che imprenditore che sono do da vivere alla gente ok e dai basta per ora basta li mettiamo tutti a ingresso però va bene così questi vabbè questi venditori qua in realtà cioè che lavorano in un posto fisso non vedo perché ok tutti a ingresso veterinari veterinari anche veterinari giusto 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 dov'è io direi di di assumere anche il primo educatore perché ci serve ingresso ne assumiamo due guarda ne assumiamo due adesso vi faccio vedere cosa fanno gli educatori appena arrivano appena facciamo i dingo vi faccio vedere ai cazzo servono ok ora continuiamo il recinto dei dingo incredibili un applauso c'è ragione vediamo a me gestione di persone tantissimo ma non ho pazienza in realtà io sono la persona meno paziente del mondo ma è questo il bello ragazzi sono proprio quei giochi rilassanti cioè sta tutto ai tuoi ritmi per un cioè voi per un pomeriggio potete dedicarvi solo a costruire un recinto nessuno vi corre dietro vi mettete l'alberello lì bello bello vi mettete l'albero l'albero qua di giosue qui e ci mettete ci mettete un altro che cazzo di albero di me aspetta ci mettete l'altro baobab bello il baobab bellissimo dai recinto di baobab vai anche se in australia non dote ci sono i baobab però ci mettiamo l'acaccia qui là e poi gli faccio molto l'accazzo i recinti l'importante è che siano che siano verosimili cioè un po' d'acqua al povero dingo che siano schiatta ok allora mettiamo qua in centro guarda qua ci mettiamo la rupe dei re dove ci sarà Simba che che verrà che diventa lunga vita il re vai sembra non vi dico cosa sembrano ma dai è il simbolo dell'infinito ragazzi prendetela così sembra un patibolo sì sembrano due coglioni va bene ce l'avevo qui l'ha dovuta dire ragazzi ecco esattamente quello che sembra ora questo qua posso posso ricopiarlo copia ok duplica e lo mettiamo qua così foraggiano poi il dingo sta bene per ora io direi di mettere di fare gli habitat il dingo che cazzo mangia dove è il dingo cosa mangi vabbè carne lavorata attenzione si tratta bene il dingo il dingo non trae condivisione tra lo spesso e con l'altro spesso ah giustamente se lo mettete con un canguro immagino che si squartino la vicenda perché i canguri sono degli animali aggressivi a livello esagerato qua ovviamente non conosciamo un cazzo perché non l'avete ricercato interazioni con gli umani sicuro di sé il sistema di riproduzione è monogamo come il diavolo monogamo era il diavolo allora la dominanza è c'ha il maschio e la femmina che giustamente è un lupo è un lupoide quindi c'ha il maschio e la femmina alfa per curiosità il bichorn l'alfa perché sono curioso ci sta un po' di divulgazione scientifica sistema di riproduzione poligninico dominanza maschio alfa dominante gerarchia per anzianità dimensione delle corna bellissima sta cosa che i caproidi quindi per ora non c'è nessun alfa tra i caproidi o sì l'alfa si dovrebbe vedere da qui se non sbaglio c'è tipo scritto alfa che i lupi alfa affamati di metri me li ricordate per ora non c'è un alfa vabbè sono tutti maschi quando tutti hanno il cazzo nessuno è migliore degli altri quando arriverà la femmina iniziano i problemi ragazzi questa è una grande metafora della vita del recinto dei bihorn tutti maschi vedete non ci sono problemi di dominanza non si incorrano vivono tranquilli sguazzano questo qua mi sa che rimarrà bloccato qui per sempre il povero madonna con la barba appena ci ficcherà una femmina inizieranno a litigare ragazzi perché è così che funziona questo è un esperimento quasi antropologico che rispecchia la natura delle specie quindi appena ci sarà una femmina qui inizieranno a litigare per la dominanza mi spiace la maledizione di essere maschi ragazzi e allora a parte le stronzate direi di continuare con il la vita funziona così eh ragazzi purtroppo allora riscaldiamo l'ambiente che ha bisogno di 40 gradi il povero dingo vai è la stufa prima che lo congelo si 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 posso ok l'acqua un po' fa un po' cagare in realtà perché è troppo profonda aspetta vai così a posto bello va che bello il laghetto poi strutture strutture ah no abita abita allora io direi di mettere la stessa cosa perché alla fine è un animale piccolino rifugio rifacciamo questo no ma io metterei anche questo dai ci sta ci sti là col giociglio dov'è il giociglio where is the giociglio qua mettiamole le foglie le foglie perché la paglia mi sembra un po' troppo per dei cani ok va che bellino poi 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 il ciibo il ciibo allora mettiamo l'abbeveratoio piccolo vabbè sono dei cani penso che una ciotola sia ma io li metto la fontana affanculo allora mettiamola vicino alla strada così quando vanno a bere la gente li guarda e fa booby o no cibo cibo grande vaffanculo ok qua niente poi poi un cazzo perché dobbiamo liberarlo liberate il leone dov'è 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 è morto il dingo dov'è c'è più il dingo qua senti io vaffanculo li ficco dentro senza farli passare dalla quarantena dai rischiamocela si può yes che si può certo che si può vai a posto portate sti dingo dai ora io direi di copiare copiare i pari 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 quello che c'è qua quindi copiamolo ovviamente ma che cazzo ho fatto tutto copia giro no no aspetta stanno arrivando sti cazzo di cani dai su che cazzo ti paga a fare dai oggi sono dei prestiti da risaldare guarda guardalo guardalo erano una cosa sola guarda guarda a posto abemus dingo abemus dingo tra l'altro i gigaminchia si trattano benissimo questi cazzo di dingo ok dingo la poi hai detto papino hai sentito poi no dov'è dov'è quello didattico porco giuda dov'è qua lo duplichiamo e lo mettiamo qui con il dingo ovviamente così chi si scede qui c'è tipo la lezione del dingo bravo bravo che hai buttato hai buttato nel cestino bravo t'ho visto bravo bravo ma è il suo figlio ma c'è qualcosa che non torna scusi la sicurezza chiamate la sicurezza c'è qualcosa che non torna qui robbie hatton oliver hatton olie benji wally hatton sta tornando a casa no 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 sicurezza ragazzi c'è qualcosa che non torna scusate c'è qualcosa che non torna vabbè non il cognome uguale mi basta magari l'ha adottato ah c'è un regalo cos'è ottieni ricompense vai un millino posso vabbè il dingo si sta divertendo ovviamente qua incubazione mrzà no c'è la mersa c'è la mirsa porco giuda c'è la mirsa gesù cristo c'è dio ecco vedi va in quarantena va mi chiamano male che ho guardato se no facciano la mirsa pure di visitatore andate per cercare il cazzo della mirsa ragazzi penso che non ci sia virus peggiore un avviso importante si lo so che è malato il dingo lo so lo so lo stiamo andando a cura dove sono gli altri cazzo sono gli altri aspetta cazzo si facciano vedere posto dovevo mangiare il primo animale malato siamo dei cani diciamo tu tu stai bene tu stai bene allora ciao leo non sei l'alfa tu leo vaiolo bovino ma come vaiolo bovino ma è un dingo ma come fa bene il vaiolo bovino a porco gesù 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 vedi vedi a non farle cose come si deve allora chi c'è in quarantena c'è quello no qua allora ryan è la clinica veterinaria a posto lo stanno curando curatelo lo sposteranno anche mia alla clinica veterinaria porco che inizio che inizio incredibile il dingo amma mia miracolo vabbè il vaiolo bovino il vaiolo del dingo a me fa vedere il vaiolo bovino un dingo ma è buio eh si ragazzi è buio perché negli abiti degli animali non ci sono luci non possiamo mettergli delle luci si incazzano allora qua per ora è tutto a posto allora direi di andare un attimo sulla ricerca ricerca allora qua stiamo ricercando christian sta ricercando quello che deve recinzioni strutture dello staff tema africa tema artide strutture australie vabbè queste cose sono decorazioni che sinceramente non me ne frega un cazzo per ora io direi di ricercare le recinzioni ragazzi anche i pannelli solari sarebbero vai cerchiamo le recinzioni gabbione gabbio one vai vai cerchiamo questa a posto che cazzo c'è cosa c'è fonte di energia inaccessibile perché che cazzo dici che cazzo dici che è qua ah devo girarla giustamente non possono fare il giro loro devo girarla ragazzi così a posto così accessibile oh zo trattamento dell'acqua devo girarle tutte ma che bravi ma che bravi ma che bravi che siete ok tu ecco perché ecco perché c'hanno la mirsa forse perché non purificavo l'acqua sarà per quello la oh aveva risolti i problemi vaffanculo va ora i biglietti mica siamo ancora in perdita pesantissima siamo ancora in perdita pesantissima qui la madonna la madonna la madonna cos'è che c'ha la madonna ma il tetano la madonna c'ha il tetano la madonna col tetano porco giuda vai vai dal veterinario vai 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 sapete perché ragazzi perché non stavamo filtrando l'acqua perché giustamente non avevano accesso all'acqua l'acqua era contaminata quello si è preso il vaiolo quell'altro si è preso il tetano vaffanculo va e i visitatori lei al tetano sete e beva didattica e bassa ci vorrebbe troppo per essere ma il distributore è qui brutto coglio è qui il distributore brutta testa di cazzo è qui è qui è qui gradimento soddisfatto ma perché 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 non lo gradiscono vabbè guarda come sbirciano il Bjorn nel frattempo chi è questo Brian salve Brian comunque allora a parte io che faccio il coglione ma i modelli degli animali sono da stanti ragazzi che poi se non sbaglio esatto si può fare anche la visuale la visuale libera cioè sono fatti veramente veramente bene si vede si vede no non si vede peccato volevo capire se era femminuccio maschietto allora vabbè i dingo come stanno lui sta bene minchia adulto ho già 4 anni minchia non durano un cazzo i dingo arco giudo qua si stanno divertendo allora visto che la didattica è bassa io direi di fare una cosuccia guardo un attimo che risuono vabbè dai manca ancora Brian cerca di riposare gli sento osservato esatto Becky come sta andiamo a controllare Becky adesso andiamo a controllare Becky Becky mi sa no madonna con la barba madonna con la barba era quella col tetano qua racco pensavo stesse per pompare il ah no magna allora Becky è qua dotazioni basse però Becky ha benessere basso perché cosa c'è chi si sente incompreso che c'è che c'è vabbè 65 non è un problema però perché c'è i graffi è stata malmenata ah mi sa che mi sa che mi sa che hanno fatta botte e lei ha perso infatti è tutta piena di graffi pieno ricordiamo che è un maschio ah è tornato è guarito dal tetano la madonna brava brava madonna col tetano best bestemme lui un avviso importante che c'è impossibile trovare un'officina e che cazzo vuoi vuoi un'officina non so perché mi incazzo ragazzi con i miei dipendenti sono molto duro non so perché sono così livoroso vabbè mettiamole un'altra vai vai tanto tanto abbiamo solo un prestito da 50.000 da ok ora dingo c'è bigorna c'è direi di fare quello che avevo immite di fare fin dall'inizio cioè dobbiamo fare il allora strutture se non sbaglio hai strutture utenze strutture staff mostre degli animali dispositivi di didattica eccoli dobbiamo mettere tutti questo qua punto di lezione sugli animali lo mettiamo qui lo mettiamo uno qui e uno qui ora i nostri educatori specie non selezionata non collega po' porco giù nessuna specie selezionata devo metterci ok bigorna ci mettiamo questo ovviamente bisognerebbe farla meglio però ragazzi però non c'è ben questo e ci mettiamo il dingo a posto nessun educatore ma se gli educatori non vengono è colpa mia poi zoo staff dove sono gli educatori che pago a buffo dove sono venditori inservienti lettere di sicurezza meccanici educatori qua tu tu vai vai a lavorare vai a lavorare perché non vai a lavorare va bene allora aspetta un attimo tu tu brutto 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 guarda c'è gente che ride non ma dove sei dove cazzo ah sei qui ti faccio proprio guarda ti prendo proprio di peso posso lasciarlo dentro il dingo quando faremo la vasca dei cocodrilli li minaccerò così vieni qua lavora lavora qua perché perché non riesco ad assegnarlo sta per iniziare una lezione su dingo eh allora allora ok vai a posto tira fuori il microfono champado perfetto champado siamo siamo in positiva attenzione stiamo guadagnando stiamo guadagnando nonostante i dipendenti devono fare la coda per usare una struttura a me non ne frega un cazzo l'altro educatore che non lavora dov'è in movimento vieni qua fermo fermo io ti pago e tu stai fermo lei ti lamenti pure che devi fare la coda per andare in bagno ma è già tanto che ti faccio andare in bagno qui qui e niente pausa sigaretta qui qui vai dove cazzo dove cazzo vai dove cazzo vai è qui tu qui sta vagando qui devi stare devi lavorare qui devi lavorare che fastidio vabbè vai a cagare va vabbè allora dove sei dove sei dove cazzo sei me ne frega un cazzo che c'è una famiglia dove sei lei è lei perfetto via licenziato licenziato ha una famiglia da mantenere non mi interessa non mi interessa non mi interessa proprio guarda tu ingresso vai a posto ci lavora qualcuno in sta merda di bior no non ci vogliono lavorare dal bior vabbè vabbè poi prima o poi si sminchi si fa e succederà qualcosa ragazzi ora una cosa che non ho messo importantissima che molti di voi se ne saranno accorti eh non lavora ragazzi non li lavora non era genere di lavoro ragazzi fai un recinto pure per loro un recinto pure per i dipendenti guarda quasi quasi allora dobbiamo mettere per il pubblico per il pubblico strutture staff strutture visitatori il il chess il chess perché giustamente non possono andare in bagno sti poveracci qua perfetto qua ci sono delle le bibite io direi di metterne altre che si lamentano che qua vabbè non facciamo magari non facciamo concorrenza quelli davanti ai dingo così gliela lancio capitalismo davanti ai dingo vai poi un altro a post per ora sta sta fruttando poi magari prima di chiudere ragazzi vi faccio vedere il mio zoo grosso quello che ho fatto penso abbia tipo una ventina di ore quello zoo vai fammi raccogliere dammi i soldi dammi i soldi a post ora io direi che il grosso è fatto ragazzi il grosso è fatto i dingo stanno bene c'è un alfa eccola mia è un alfa guardate femmina alfa giustamente l'unica femmina qua possiamo 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 castrarla darle i contraccettivi ah non vedete cazzo non vedete allora no è importante questo è importante va visto allora come cazzo faccio faccio vedere così guarda a posto ci vedete yes qua vedete c'è vabbè mia incredibile qui dove si vede il nome femmina alfa perché è l'unica femmina qua c'è questa cosa qui che io posso spegnere riaccendere per fare il contraccettivo per non far più figliare gli animali è una cosa che si usa quando ci sono tanti consanguinei perché se si iniziano a a copiare con i consanguini cioè non vi dico cosa succede mi immagino che lo sapete viene fuori una prole nata male con mille problemi proprio nata male con mille problemi con mille malattie con due teste quindi non va bene ragazzi non va bene ora fammi rispostare la webcam che lì mi triggera a posto il più è fatto ragazzi minchia ci sta un botto zooplanet non lo giocavo da da mesi non lo giocavo è proprio figo è proprio figo prima di chiudere perché ho intenzione di continuarlo prima di chiudere direi di fare come fanno i ricchi di alzare i prezzi perché è proprio ti del mercato poi alza i prezzi la virgola metti la virgola vabbè la virgola ha detto che non la mette sei a posto quindi allora l'animale che piace di più è il dingo il benessere medio siamo su 66 a posto l'ispezione non l'abbiamo ancora fatta felicità staff 81% giustamente perché li minaccio il grafico a posto la criminalità la sete c'è un problema di sete la didattica è bassa perché non abbiamo un cazzo questo è un po' piccolino è un attimo appena iniziato la sete miglioreremo ragazzi il cibo ci sta i souvenir non ci sono la criminalità com'è niente la criminalità non c'è siamo in canada siamo la panoramica è a posto la gente continua a donare vediamo quanto donano madonna guardate quanto è piena allora la donazione più alta è 20 dollari il dingo sta fatturando 1000 dollari di donazione e il bihorn 300 bihorn veramente devastante cioè il dingo scusate è niente ragazzi è fatta vediamo come magnano vediamo 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 incenditi i suoni del cibo gli smr del cibo senti che è successo a streamlabs aspetta ok c'era un attimo sminchetto streamlabs vabbè ragazzi si è ben sentito il dingo che mai sono bellini dingo comunque sono proprio bellini ma che faccia che faccia simpatica what time is it allora dovremmo chiudere però dingo si sta per accoppiare aspetta ferma ferma accoppiati 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 i cuccioli si ma non accoppiatevi dove mangiate ma che schifo un po' di un po' di gene accoppiate vediamo la danza chi è che chi è che bomba chi è che è l'alfa ah è ryan l'alfa poi ovviamente cambieremo i nomi ragazzi vediamo la danza d'accoppiamento e tra l'altro sono vere ragazzi sono proprio in natura prendere le danze d'accoppiamento ovviamente non fanno vedere l'ingroppata spero che se no bannabile incinta è incinta ma avete dato il cazzo con sta stanza dello staff ma basta mia i cuccioli vabbè i cuccioli che cava pensavo avessi partorendo invece no ha cagato bene vabbè ma non so se è incinta vedremo ragazzi vedremo chi vivrà vedrà chi vivrà vedrà voglio un dingo anch'io e niente allora dovremmo chiudere però prima di chiudere direi di salvare gli urna top del ring allora lo chiamiamo chat di cop tv e salva zoo vai poi carica zoo vi faccio fare un tour del mio vecchio zoo dai carica zoo ok vi faccio vedere cosa si può fare un po' di spoiler un po' di spoiler incredibile no che poi tra l'altro se vi vedete è uguale c'è l'ingresso identico è una persona molto molto metodica tra l'altro c'è la rambe qui nel mentre che buttano quelli che pagano aspetta non ho capito che buttano quelli che pagano il laghetto il dingo rai amboscio indiscusso beh si affigliato ragazzi allora ci mette tre ore a caricare perché c'è un botto di roba allora va bene innanzitutto c'è ragazzi c'è ragazzi guardate guardate il mio autismo guardate l'ingresso vialone e panchina con gli alberi dimmi se non è uguale vabbè l'ingresso con l'area staff identica a posto qui c'è il furgone dei gelati pompato cioè questo qua quello pompato la gente con il gelato viene qui viene qui incredibilmente ovviamente cercheremo di farlo diverso perché se no qui sono i bufali ragazzi tutto simmetrico è giusto ragazzi è giusto ci vuole un po' di follia qui ci sono allora che cazzo è qua bufali e facoceri qui ci sono i bufali e facoceri ragazzi c'è il vitellino il vitellino sai quanta bella scimental che ci fai con questo c'è il vitello ovviamente non gli dava i nomi perché non ce lo sbaglio un altro vitello ho letto Norimberga un secondo i facoceri dove cazzo sono sono morti i bufali e facoceri si chiama la stalla il recinto qui ervitello dove cazzo è il facoceri non c'è il facoceri è morto il facoceri eccolo no questa qua è la bufala di Napoli ci fai ci fai una zizzona di battipaglia con questo animale che tra l'altro è un gold cioè un po' chi cazzo dov'è dov'è penso che questo qua ovviamente lei l'ho dovuta l'ho dovuta sedare perché figliava come un assassino non ce la facevo più a star lì dietro dov'è l'alpha l'alpha è tipo il bufalo alfa non c'è più il bufalo alfa eccolo qua eccolo zaim ovviamente è un gold perché è un alfa poi c'è messi messi parte lo stesso che è una femmina sedata perché anche lei 5 stelle 5 stelle san montana c'è anche c'è anche la c'è anche la c'è tipo i pokemon li fai li fai figliare ovviamente ragazzi vedete un cazzo perché c'è la webcam quindi magari la sposterò alla prossima qua ci sono le zebre se non sbaglio vediamo yes le zebre le zebre è un animale stupido però purtroppo ragazzi gli animali africani hanno un botto di attrattiva si trovano si trovano così come nulla top zebre qui ovviamente tutto tutto achittato giustamente qua c'è lo svincolo allora di qua si va nell'altra zona qui ovviamente tutti i negozi vabbè mettiamo mettiamo play comunque ci sta a vedere la gente posso scoprire i palloni alla gente così se li ricompra vai qui se non sbaglio c'è l'ippopotamo ma se io ti giuro non l'ho mai visto fuori è sempre sott'acqua giustamente un ippopotamo dov'è? eccolo eccolo parco giuda giustamente è un alfa vabbè da solo perché cazzo gli ippopotami gli ippopotami litigano se li metti li metti nel recinto insieme e litigano cioè è un casino quindi l'ho fatto sto lì da solo sto lì da solo questo è un po' di spoiler ragazzi ma per farvi vedere che cazzo di figate si possono fare in sto gioco perché merita qui c'è l'ippopotamo incredibile c'è l'età poverino non ce l'ha ma ogni volta che ti mettevo un amico ci litigavi sfondavano i recinti Jurassic Park qua ovviamente si ritorna indietro la recinto delle zebbre qui c'è ovviamente ah il capibara alla fine l'avevo fatto ma non ci che si l'ho fatto capibara è in saper accoppiare tra l'altro così a buff dopo capibara mi piace troppo il verso del capibara ecco penso che sia uno dei miei animali preferiti il capibara perché talmente dov'è? morto ecco è talmente strano che è talmente strano il capibara che come fa non piacerti un animale del genere un animale guarda ci ha messo puri giocattoli sott'acqua lei? lei cosa ha da dire? ah trinca va bene a posto poi vabbè qua si torna indietro e e niente qua finisce diciamo che la zona iniziale è qui poi intanto qua gli alert impazziscono qui ci sono i i makaki giapponesi ragazzi i makaki giapponesi qui arte sono quelli che sono scappati di più i makaki oh no aspetta questo ve lo devo far vedere mi spiace streamlabs mi spiace per stavolta dai teniamola così per ora poi dopo la cambierò ragazzi guardate ci vede 5 stelle questo qua glielo ho dato io questo qua forse è uno dei pochi nomi che ho dato in sto gioco o no cioè mi sembra mi sembra d'obbligo no tra l'altro anziano sta per morire i deo dovrò fargli un bel memoriale il signor ideo kojima ovviamente non è un insulto io vorrei diventare un makaki giappone vabbè qua abbiamo i makaki con il loro culo incredibile i makaki aggressivi lei dov'è ma perché spariscono gli animali a posto qua che cazzo sta nevicando nel mentre a posto ah qua c'è l'orgoglio incredibile l'orgoglio incredibile questo recinto dove ci sono i coccodrilli marini ragazzi tutti questi coccodrilli marini che vedete sono usciti fuori da penso uno dei primi animali dello zoo ma vi faccio vedere la longevità di un coccodrillo cioè questo qua è giovane un coccodrillo ovviamente lui era l'alfa si chiama soba soba zuppa l'ho dovuto sedare perché i coccodrilli sono giovani a 15 anni dov'è dov'è l'adulto dov'è l'adulto incredibile che c'è tipo 50 anni i coccodrilli marini io non lo sapevo vivono un botto vivono una madonna dov'è giovane adulto cioè sono giovane ai 18 anni i coccodrilli ci rendete conto con questo qua ci potete fare una bella cintura questo qua è giovane a 9 anni vabbè l'alfa di 40 anni non lo trovo ragazzi sarà sott'acqua intanto nevica qui nel mentre lei cosa si sta drogando o no sembrava un tossico buonanotte a chi va buonanotte a chi va adesso finiamo ragazzi finiamo intanto vi faccio vedere vabbè ma cacchi che abbiamo visti cazzo proprio adesso la notte doveva arrivare porco giù da cui ci sono le non mi ricordo ah le iene porco giù dalle iene le iene che a me mi fa morire da ridere perché ridono non si vede una minchia ma quella notte però puttana la madosca dove siete eccola qua salve ridi rida rida ci venite conto questo qua la iene è anziana a 15 anni coccodrilla a 15 anni è giovane adulto aspetta porco giù da streamlabs come mi sta cagando il cazzo un attimo ragazzi che se no la chat non la leggo ok posso adesso chiudiamo e niente ragazzi e niente cioè io ci perderei devo arrivare al piatto forte però perché non c'è ancora il piatto forte c'è scara anche i leoni non li trovo i leoni sono rarissimi ragazzi costano un botto non si trovano facilmente poi i leoni stanno sul cazzo qua ci sono i draghi di komodo ragazzi i draghi di komodo che sono degli animali belli ma da tenere uno nozzoso è stupidissimo perché sono veramente amorfi non fanno un cazzo sono tutto il tempo al sole tutti i cuccioli tra l'altro perché i genitori sono morti affamato e magna magna i draghi di komodo là e poi qua cos'è che c'è qua cos'è che c'è dove cazzo è il cartello puttana la madosca ogni volta ah beh qua ci sono le iene che cazzo sto facendo qui c'è il bagno qui c'è il ahhh lo scimpanzee giustamente pan panicus il bonobo il bonobo che è a rischio estinzione il bonobo il bonobo è l'animale più vicino a noi tra l'altro 98% di genoma umano il bonobo dov'è oh oh George me lo ricordavo il bonobo George sembra mi ricordo la mia famiglia mi ricordo i miei parenti soprattutto sta posizione il nonno a natale quando voleva alzarsi dalla sedia ragazzi la tigre no non l'ho trovata la tigre ragazzi è rara gli animali a rischio estinzione sono rari infatti ce ne ho pochi il bonobo c'è perché il bonobo comunque è uno dei più dei più allevabili in cattività perché comunque lotta pericolosa è cosa del suo proprio attenzione c'è il grizzly porco giuda il mio animale il mio animale c'è ragazzi Jacob Jacob ecco l'orso penso sia il mio animale preferito Jacob che sono 23 anni e quanti chili ha Jacob lo dice gli dice i chili statistiche fisiche lungo progenie no allora c'è Jacob che è l'orso incredibile poi c'è il figlio se non sbaglio ma sta lottando con no sta lottando con la sta lottando con sua moglie attenzione c'è la femmina il papà il papà dov'è il piccolo orsetto o è cresciuto il piccolo orsetto dov'è il cazzo orsetto dov'è minchia proprio ora dove è arrivare la la volete vedere la disputa con gli orsi minchia ci vede un cazzo perché è notte Giorgi il re della giungla esatto poi poi vabbè l'orso l'orso non si vede ragazzi qui qui cosa c'è qua c'è da mangiare qui c'è da mangiare qui i lupi dove cazzo sono i lupi che gli avevo messi i lupi incredibili qua sono yes si eccoli cani slupus ragazzi non potevo non metterlo ci sono puri cuccioli infatti l'ho sentito un cucciolo dovete stare attenti bisogna cercarlo cuccioli eccolo 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 i cuccioli i cuccioli incredibili abbiamo iaci e i cuccioli di lupo dove sono mamma e papà ecco ecco questa qua è papà mi sa yes si vede dalla stazza che è il maschio questo è papà che non si vede purtroppo mannaggia la notte però vabbè bravo bravo ti riprendiamo proprio nel momento perfetto bravo falla tutta perfetto bello 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 probabilmente lo zoo ragazzi ci ho fatto le rampe ci ho fatto tutti i negozi cioè comunque è grasso che cola salviamo su eurofauna possibilmente ok è fatta ragazzi e direi che per oggi per oggi per oggi è fatto cosa succede ok poi cercherò di aggiustare bene streamlabs la webcam mi spiace per l'ultimo l'ultimo pezzo insomma i serpenti ci sono sì sì ci sono anche i serpenti c'è tutto c'è tutto c'è quasi tutto allora in realtà io di espansione l'ho comprata abbastanza perché mi piace ho comprato appunto l'espansione dove c'è il capibara l'espansione artica perché l'orso polare lo voglio però non l'ho ancora trovato i canguri li voglio perché i canguri mi fanno morire da ridere i canguri penso siano gli animali più comici della storia i pappagalli sì penso di sì forse con un dlc puoi fare la come cazzo si chiama il serraglio con gli uccelli variopinti i cammelli ci sono mi regali un facocero certo bello come giochino non ho parlato baionetta ragazzi perché un po' dopo un po' diventa secondo me questi qua sono giochi perfetti per delle live dominicali si potrebbero continuare vi ricordo che c'è anche il planet coaster che è uguale ma solo con i luna park con le montagne russe sì ci sono anche i ragni ragazzi c'è tutto c'è tutto vi ripeto c'è proprio tutto ecco adesso voglio di comparare questo gioco beh ragazzi allora vado a vedere perché a noi piace farvi conoscere nuovi giochi da apprezzare soprattutto giochi così belli su steam costa i suoi i suoi soldi perché comunque è un gioco bello perché sono andato su instagram instant gaming è un cretino su instant gaming questo gioco qui se non sbaglio non costa c'è uno di quei giochi che trovi tipo a 9 euro planet planet zoo vanilla guarda c'è la deluxe edition con un dlc se non sbaglio il dlc dove c'è il pavone dove ci sono magari animali un po' più rinomati allora ti dico subito cosa c'è nella deluxe edition tre animali imperdibili che sono il drago di komodo il coccodrillo il coccodrillo del nilo quello con il muso un po' più e l'antilo capra perfetto e c'hai già il primo dlc poi dlc a lungo a lungo andare li mettono anche sconto li puoi trovare anche a 4 euro ti trovi dlc a 4 euro te li scarichi ti danno 5 animali in più un bioma in più ci sta uno di quei giochi che secondo me è un pc se hai un pc medio alto devi avere perché sono dei giochi fighi sapete quante volte renderizza quante volte la mattina quando mi renderizza il video e devo piazzare su youtube mi metto a giocare a sti giochi anche i siti skyline certo certo che lo continuiamo ragazzi se vi è piaciuto così tanto lo continuiamo domenica prossima che poi tra l'altro ragazzi vedo potete controllare un attimo il calendario perché oggi è 6 domani è 7 c'è l'oror night vi ricordo la suora il suo filippa versus il suo matilda con dino però il 16 esce god of war innanzitutto no il 9 scusate che il 16 il 9 esce god of war quindi già è una settimana devastante penso una delle settimane più importanti dell'anno domani che inizia domani e poi settimana prossima venerdì 18 esce pokemon cazzo è la mia sveglia incredibile la sveglia anticollasso il venerdì esce pokemon quindi visto che le pomeridiane io ho detto le pomeridiane le facciamo solo se hanno se hanno senso se a voi va bene si potrebbe fare venerdì pomeriggio pokemon che è il day one lo proviamo e domenica o rifacciamo la votazione baionetta o plane zoo oppure ricontinuiamo plane zoo perché alla fine cazzo ci sta pensavo venisse una live motion invece viene una live figa vabbè che io mi incazzo con lo staff e con gli animali però ci sta ragazzi i gestionali sono belli per questo perché o no Jurassic World minchia Jurassic World bellissimo anche quello sarebbe da portare launch lady no launch lady ragazzi lasciamo stare il gioco per carità il gioco era anche decente però non è che sia tutto sto gran che c'è c'è nostalgiaia ragazzi Dark Souls comico come gioco cop col gioco lì è bellissimo ci sarà quello come situazione cop quindi io direi settimana prossima domenica quindi domenica 13 facciamo plane zoo poi dopo l'altra settimana ancora quando esce pokemon vediamo ragazzi si vive la giornata comunque siateci siateci perché domani si rinizia col botto ovviamente domani c'è la horror night incredibile mercoledì portago 2 4 non lo sappiamo ancora ragazzi perché il nostro problema è che prima di essere content creator siamo videogiocatori molti di voi magari non lo sa molti di voi magari non se ne rendono conto anche perché non è una cosa che ti chiedi ma giocare un gioco in live il 50% no il 50% il 60% il gioco non te lo godi cioè il 60% è stream chat ringraziare le sub parlare intrattenere cercare di non sbagliare i verbi cercare di non fare battute bannabili quindi il gioco non è non sei a mente concentrato sul gioco è difficile i commentari e ti rovini un gioco che magari stai aspettando magari te lo puoi rovinare quindi sta lui lui ha detto che il day one vorrebbe portarlo però non lo so lui ancora non è magari non è ancora convintissimo probabilmente sì però vediamo ragazzi comunque domani esce l'orario domani mi farò dire god of war ovviamente sarà una serie la serie dell'anno perché sarà uno dei migliori giochi dell'anno noi stiamo cercando di schivare gli spoiler perché il gioco il day one è stato rotto ci sono spoiler ovunque io un micro spoiler me lo sono visto però vabbè non è uno spoiler grossissimo è una cosa che si sa che sarebbe successa e quindi è difficile ragazzi è difficile essere un videogiocatore content creator su internet perché molte volte appunto alcuni giochi te li rovini magari entra il trollino in live che te lo spoiler pam in chat è difficile quindi visto che noi sono giochi che aspettiamo da anni molte volte preferiamo giocarli per i cazzi nostri ma per i cazzi nostri vuol dire ovviamente che lo registriamo lo metteremo su youtube però in presa diretta è sempre sempre più difficile chi spoiler è da bruciare a rogo mi dissocio da queste grosse accuse di violenza no adesso ragazzi 5 minuti di chiacchiere poi vi lascio andare che è domenica domani non c'è il ponte non c'è il ponte quindi domani inizia lunedì incredibile lunedì incredibile dove andrete tutti a lavorare a studiare oppure farete nulla facenti come faccio io quindi adesso piano piano con calma un po' chill ci facciamo una tisana la tisana dominicale poi tutti tutti a nanna questo problema principale è cercare di non fare battute bannabili sì infatti prima stavo per fare una battuta che ci avrebbe bannato seduta a stante però beh l'importante è non farle l'importante è non farle onesto io vado a lavorare su minecraft dei villager ci sta ci sta adesso mi sa che mi adesso mi sa che mi vado a giocare ad animal crushing perché ormai ormai che cazzo giochi se sta per uscire god of war non c'è neanche la voglia di iniziare qualcos'altro mi metto mi metto a giocare un po' ad animal crossing a pagare i mutui a tom nook la battuta della battuta è che volevo fare prima c'entrava quella vivi sezione ma era messa in un modo talmente brutto che probabilmente mi sarebbe arrivata una denuncia da greenpeace quindi god non lo seguirò come hogwarts ma in realtà in realtà ha senso ragazzi questo vuol dire che siete dei veri videogiocatori perché noi in primis noi in primis vi diciamo se un gioco vi interessa non venite in live perché sappiamo benissimo che non tutti magari hanno la ps5 la ps4 non tutti magari possono permettersi 80 euro 70 euro di gioco quindi magari ci sta dire guarda è un gioco story driven mi guardo la storia da dallo streamer x non lo gioco è vero che è diverso però comunque mi godo l'esperienza però comunque se voi il gioco lo aspettate se il gioco lo comprate se il gioco potete permettervelo se è un gioco che da appassionati aspettate è giusto siamo i primi noi a dirvi giocatevelo per i cazzi vostri non venite in live perché giustamente i giochi vanno giocati e poi dopo c'è la condivisione la community il contraddittorio questo gioco non mi è piaciuto questo che dovrebbe essere il gaming su internet su twitch almeno per noi però vabbè noi facciamo il nostro ragazzi quello che fate voi ovviamente sono cavoli la vivisezione è un'arte per cortesia la vivisezione è una porcata ovviamente io scherzavo era una battuta la vivisezione è una delle piaghe che va una delle piaghe che tra l'altro viene poco parlata perché la gente si viene impiantando la bocca con cambiamento climatico femminicidio queste cose qui che si sono temi scottanti però ormai sono diventati ridondanti la vivisezione è anche anche il braconaggio che tra l'altro ricordiamo che il braconaggio ha fatto partire una cosa conosciuta come covid-19 sono temi che ormai sono diventati di secondo piano cioè si pensa sempre alla guerra alla crisi cioè a me a me sta cosa da fastidio pure è stupido parlare su internet però a me sta cosa da fastidio ci vorrebbe l'impegno sociale in tutti gli argomenti gravi perché il braconaggio fa parte del cambiamento climatico il fatto che ci siano ci siano pandemie ogni sei mesi dei virus nuovi tipo il vaiolo fa parte del cambiamento climatico però sta cosa ragazzi è tutto diventato un'apparenza secondo me su internet tipo la gente che si mette in autostrada per combattere il cambiamento climatico in chissà che che modo io sono un braconiere esatto Animal Crossing se ti piacciono i gestionali è carino sono un po' sono un po' scoccio ma ci vuole un sacco un sacco per fare l'isola allora Animal Crossing è un gioco che anch'io prima di prima di giocarlo dicevo ma non capisco la gente cioè non capisco la gente cosa faccia come faccia a giocarci e che attrattiva che attrattiva posso avere un gioco del genere poi lo giochi inizi il primo giorno la capannina dici sì dai c'ho la capannina me la reddo un po' almeno arrivo alla prima casa arrivi alla prima casa ti sblocca la prima collezione stagionale Tom Nook ti dice pagami il mutuo perché se paghi il mutuo poi puoi ampliare la casa dici cazzo ampliamo la casa in quei due giorni che devi giocare arrivi a una settimana dopo quella settimana dici sì però ho già pagato il secondo mutuo ci sta a farsi l'orticello a aggiustarsi l'usola bene vai avanti così di settimana in settimana finché ti accoggi che sono passati due anni hai passato tipo 400 ore 400 ore a piccoli bocconi a fare piccole cose perché Animal Crossing soprattutto per la gente che ha poco tempo o per i trentenni perché Animal Crossing è un gioco per trentenni perché parla di mutui e di lavoro manuale è proprio il gioco perfetto perché torni da lavoro vai su Animal Crossing trovi tua moglie a letto con due uomini frega te ne accendi la switch vai su Animal Crossing è proprio il gioco il gioco chill per antonomasia il gioco che accende quando la niente ha già giocare infatti io adesso sto aspettando God of War che cazzo gioco Animal Crossing perché non ti impegna è meccanico eh sì Tom Nook è un villain ragazzi Tom Nook è un cazzo di villain sì New Horizon è molto droga è molto droga non so non so spiegarlo come cazzo ci riesca Animal Crossing non so spiegarlo ragazzi è proprio proprio costruito per essere per essere rilassante drogante io mi sono messo io minchia mi sono messo di impegno grazie Hog per il Prime grazie thank you thank you non so quanti mesi dov'è il feed 20 mesi attenzione affezionatissimo 20 mesi cioè io mi sono fissato che dovevo fare la collezione di Halloween la collezione di Halloween che per tutt'ottobre c'era la collezione di Halloween dovevo farla dovevo farla è stato di lì a farmare a fare multi-account a rientrare a uscire time travel non lo faccio io perché sono una persona seria perché gioca Animal Crossing in sé di cosa sto parlando multi-account entra e esci compra le caramelle perché potete comprare una caramella al giorno per 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 tutti per tutta la durata di ottobre quindi io facevo multi-account con tre account mi compravo tre caramelle al giorno sono arrivato tipo all'ultimo giorno con 50 caramelle il costume rarissimo l'ho trovata la prima botta tutte quelle ore sprecate a farmare caramelle il costume che mi serviva che era quello incraftabile che se non lo droppavi il 31 ottobre dovevi aspettare il 31 ottobre dell'anno prossimo perché è l'evento di Halloween dell'anno prossimo io ho formato 50 caramelle per trovare quel costume l'ho trovata la prima ovviamente lì ho spento la switch e basta e da lì è iniziata l'altra fila di Black Desert di 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 cazzo si chiama Elder Scrolls Online e basta come mai non riesco a rinnovare l'abbonamento perché forse non è ancora pronto perché forse il Prime sì il costume di il costume di quello però bianco quello cromatico si chiama culo pensa tutto e non lo trovavi proprio non è allora è raro ma non rarissimo però figa con 50 caramelle non dico la prima ma sicuramente lo trovavi lo trovavi magari alla ventesima restano 6 giorni mi rifiuta la carta zio fa zio fa zio fa e non lo so non lo so ragazzi cosa magari un problema di Amazon un problema del vostro account quindi ragazzi sono le 23 25 io vi do la buonanotte incredibile mi raccomando state attenti alla mirscia al te alla madonna col tetano non è più madonna con la barba è madonna col tetano la madonna col tetano e che cazzo era l'altra malattia il vaiolo bovino e dai plane zoo promosso pieni voti ovviamente ci saranno molti molti gestionali perché gestionali sono un mio vizio incredibile ci sarà anche city skylines così potremo creare disastri incredibili peggio di questo qua piano piano li porteremo proprio il gioco shield la domenica ci sta e buonanotte ragazzi grazie per aver foraggiato il mio zoo il mio zoo incredibile e niente cuoricino mi raccomando domani horror night e mercoledì esce godofur ragazzi quindi domani cioè settimana più importante dell'anno dell'anno non potete mancare mi raccomando mi raccomando mandatemi la voce mentre cioè come si termina qui buonanotte l'anno l'anno che